L'arte degli chef della provincia di Ragusa al servizio dell'inclusione sociale per creare nuove ricette e offrire una opportunità di formazione e integrazione ai migranti. E' la mission del corso Cooking Around the World presentato ieri pomeriggio al centro polifunzionale di Ragusa. Il corso realizzato nell'ambito del progetto europeo Involve e organizzato dal circolo Legambiente Chiafura di Scicli. Il percorso di volontariato e questo insieme ad altri percorsi di volontariato che riguardano un corso di yoga per bambini e anche un percorso per creare una segnaletica in percorsi naturalistici rappresentano i progetti che il nostro circolo di scicli sta realizzando nel progetto Involve che ha la durata di 30 mesi e che si svolge anche con il partenariato di altre associazioni della Francia e della Germania. Presenti alla presentazione del corso di cucina gli chef che guideranno i giovani di diverse nazionalità ospiti in alcuni centri di accoglienza della provincia di Ragusa, gestiti dalla Casa delle Culture Mediterranean Hope, dalle cooperative Filotea e Proxima, dall'associazione La Sorgente e dalla Caritas. Un progetto che punterà alla inclusione sociale dei ragazzi immigrati con la cucina. La cucina secondo me è il mezzo di comunicazione più grande che ci sia perché tutti cuciniamo, tutti mangiamo in tutto il mondo quindi perché non creare dei corsi adatti a questi ragazzi dove noi impareremo qualcosa da loro e cercheremo di insegnare qualcosina a loro con la nostra cucina. L'idea è di raggruppare questi ragazzi in cinque incontri che verranno svolti uno al mese in cinque ristoranti. Loro ci comunicheranno una loro ricetta e noi la trasformeremo in chiave e gourmet per lo scopo finale di fare un miscudio di tradizioni e culture e poi a fine del progetto, verso maggio-giugno, cercheremo di realizzare un festival. Un festival che poi vedrà questi ragazzi realizzare la ricetta che abbiamo preparato durante il percorso. L'iniziativa è stata accolta con entusiasmo dal vice sindaco di Scicli, Caterina Ricotti. È un bellissimo progetto perché lascia in linea con le altre attività di questo progetto europeo che quindi ci vede cittadini del mondo e cittadini d'Europa, ben oltre ai confini della nostra città, della nostra Scicli. È bello perché lascia qualcosa, quindi la possibilità che le eccellenze, gli chef del territorio con i nostri meravigliosi e altrettanto eccellenti prodotti del territorio trasferiscano la loro arte, la loro cura per le materie prime ai ragazzi che lasciano qualcosa, insegnano qualcosa. Sicuramente è un altro profilo molto bello. Si fa accoglienza ma si cresce insieme. Sicuramente è un altro profilo.